Musica Cedo subito la parola a Sandro Bussani che è Presidente di Fede Solidarità Lombardia chiedo a lui di aiutarci ad ampliare questo orizzonte che come vediamo stamattina parte qui, ora in questo paese della Lomendina ma vuole arrivare proprio anche al di là anche dei sacri confini e parte più qui nella città Prego Grazie, grazie ancora di averne la possibilità di essere qui perché quello che ho visto da mia è sempre stato un po' forte fondamentalmente, per cui userei anche un po' l'approccio di Svegli potenzialità e prospettive della cooperazione sociale se non puoi essere diretti lasciateci passare che andiamo Ieri c'è adesso non abbiamo raggiunto veri, questo è l'ospia che mi dava anche la nostra presentanza politico sindacale, abbiamo dei doveri su quest'anno parte anche le due numeri molto velocemente, cioè in Lombardia, la federativa, adesso è la verità, la gruppa 1060 e la 70 cooperativa sociale, il 72% è la cooperativa sociale che vuol dire che in Lombardia c'è una cooperativa sociale che non c'è 7 milioni di dati ho chiesto prima al sindaco che vuol dire che a San Canzano che ci sono una cooperativa sociale ogni 1500 abitanti questo ci ha avuto fatto bene il dovere risponderò a un territorio particolarmente fertile ma questo pare anche le altre parti dove ci sono è vero che siamo diffusi naturalmente, siamo tanti quasi quanti i comuni Lombardi però è vero che nasciamo veramente da quei territori dove come diceva anche la mia gente, il tessuto sociale è non un'altra cosa è rischiato come in parete, è rischiato come comunque lo sforzo di avere un maggiore abitamento territoriale è un dovere sul quale dobbiamo stare lo sforzo di avere le porte aperte e di convincere la volontà di vivere una buona esperienza in una cooperativa e in una cooperativa sociale è un dovere sul quale dobbiamo stare lo sforzo di portare dentro i conflitti sociali tra generazioni tra chi domanda, chi risponde, a chi risponde creando una base sociale i padroni, l'impresa, tutti i steccoli come si dice è ora che facciamo questo sforzo di avvenire i profugitori e fornitori di servizi volontari, lavoratori, giovani, anziani un dovere da una parte della cooperazione sociale ma anche un'attenzione che va apposta a queste coppie cooperative sociali nel 1 settembre 2020 il discorso del reddito di base cooperativa queste cooperative, come sapete, come sapete cioè non possono distribuire la marginalità le cooperative sono a prevalente forza lavoro e grande investimento poi sulle persone che vogliono sapete con le cooperative sociali allora io chiedo che le cooperative sociali siano viste non soltanto perché distribuiscono attraverso i loro servizi e le risorse pubbliche ma perché si assumono il dovere di creare quanto adesso la condizione di beni sociali ma come imprese, perché ci riconoscono come imprese di creare il reddito e io dico che le cooperative lo stanno facendo creano un reddito nel momento in cui coinvolgono in modo strutturato, organizzato la forza dell'ultimo uomo italiano creano un reddito nel momento in cui sanno intercettare finanziamenti vari dal forese e dall'organizzazione europea creano un reddito nel momento in cui sanno integrarsi tra cooperative, agende economiche di scala creano un reddito nel momento in cui sanno attraverso i giovani che non sono civili o come professionisti sanno mettere questi giovani in un processo di lavorazione culturale dove sono cittadini attivi che partecipano alla loro coattività creano un reddito nel momento in cui costituiscono la conoscenza conoscendo la conoscenza e la persona c'è un altro che è quello della cooperazione creano un reddito progettuale ma anche spirituale nel senso della cooperazione sociale non è che per fare un servizio ma attraverso il servizio da fare traguardare un modo di essere della gente che va oltre un oggetto specifico dei servizi un modo di essere diverso creano un reddito perché creano un luogo dove si può fare il lavoro perché creano bisogno di un buon lavoro creano un reddito perché più le altre imprese sanno agire la conoscenza dei tempi quanti partai quanta creano un reddito perché sono incubatori di te diceva qualcuno creano un reddito perché hanno sempre saputo quando hanno rubato prevedere i bisogni e costruire risposte che solo dopo ci diventate norma standard attraverso attraverso creano un reddito perché la cooperativa di Sant'Azzaro può accedere a tutto il know-how della cooperazione italiana la cooperativa di Sant'Azzaro la non cooperativa di Sant'Azzaro ma la singola cooperativa forse vuole per fare la pubblicità andare a vedere una fondazione nazionale costruita da dei cooperatori dei cooperatori che si chiama non ha caso vuole andare a vedere un intervento per mettere assieme una famiglia di religiosi che non riescono pure a portare avanti la loro vocazione la vocazione del bene che stanno prescrivendo ma ritengono che quel bene sia stato storicamente spesso di quella comunità quindi non lo vogliono smettere la cooperazione sociale che sa fare i interventi sociali è un finanziatore che sa dare lo start-up questa cosa qui che è stata deliberata dal coordinamento degli enti religiosi nel 2000 nel 2004 è arrivata alla fondazione nazionale che sta producendo sui vari territori un recupero interessantissimo di beni ma anche di sostegno a certe volte a votazioni finanziarie che rimangono di quei beni che trovano un poca forma di una cooperativa di Sant'Azzaro può, se vuole accedere a una grande francese nazionale che si chiama FAM faccio un esempio produzione coca operativa cito lega può ma ancora una banca e via delle famiglie possiamo aiutarsi assieme a patto che voi aiutate una nostra cooperativa a creare risposte di esilimento sul territorio un domani io penso che una cooperativa insendenza un po' con le sue famiglie con redditi con sempre minore capacità d'acquisto con collegamenti a redditi con una grande cooperativa sociale romana che è l'istituto stomatologico di Milano che è una cooperazione della cooperativa e di fine 100 stiamo costruendo una rete per cui sia possibile un portamento moderare il miglior quella primaria privata di quello europeo o notoriati, parenti, proprie può creare risposte di solidarietà anche attraverso la sanità di allora se un comune invece che mettere a parte una situazione di 6-17 euro la metteranno a 20 quei 3 euro non sono una spesa sono dei vestimenti ragazzi perché quei 3 euro gli dicono quella personalità che permette di ottenere tutte queste cose qua io sono stufo che per ora il pubblico lo tenda soltanto caricandosi in futuro la forma che riceve le cooperative tenendo passi in livello contratuale equale oggi con quali non lavoratori basi con quali che vanno in casa integrazione per sarà la volta della cooperative garantendo comunque questa individualità perché la stanno garantendo comunque tutti i santi giorni i primi santi giorni da vendarmi a questa parte questo è possibile se in questo seno come dovere come dovere se invece pensiamo che la mia cooperativa è buona di per sé per cui cavallo mi chiedo a qualsiasi ventata di neocentralismo non in termini politico ma di recupero per il bene pubblico per il bene sociale per il bene pubblico e quindi qua alla fine mi torno a progettare più niente e come un dirigente di una società di un'impero di un'impero mi torno a progettare più niente per il bene pubblico